Siete turisti all'Aquila da quanto? Sì, da qualche ora. Siamo arrivati a risera sul Tardi, però l'abbiamo visto solamente la piazza delle 99 Fontane. È abbastanza suggestiva, anche se scivolosa, ma insomma... Adesso andrete alla chiesa degli Animesanti, qui alle nostre spalle? Esatto, abbiamo visto anche la chiesa di San Bernardino. L'impressione le fa? Sono un po' un problema, direi. È ancora presto per fare un bilancio, ma che l'Aquila stia tornando a essere una città che piace ai turisti è più che un'impressione. Migliaia di persone hanno visitato la città nel mese di aprile. Piazza Duomo, con la sua chiesa degli Animesanti appena restaurata, 99 Cannelle, Colle Maggio, San Bernardino, tra i monumenti più cercati. Sarà stato l'effetto della campagna di comunicazione sul decennale o il sentimento di solidarietà e la voglia di esprimere vicinanza a una città in rinascita a ridosso dell'anniversario del sisma o la voglia di riscoprire una città d'arte bellissima. Molto è inciso sicuramente l'effetto della fiction di Marco Risi. L'Aquila, grandi speranze, che ha portato la città sugli schermi televisivi di tutta Italia a partire dal 16 aprile. Ma c'è ancora molto da fare, ci sta pensando il nuovo assessorato al turismo guidato dall'avvocata Fabrizia Aquilio. Tra le sue prime azioni c'è l'apertura di un portale online dedicato al turismo. Ma può anche darsi che ci sia una sorta di curiosità per venire a vedere che cosa siamo stati in grado di fare in questi dieci anni. Però io mi auguro che in realtà anche l'occasione del decennale, quindi si è parlato molto dell'Aquila anche nelle reti televisive nazionali, siamo stati attenzionati effettivamente molto, sicuramente avrà suscitato un nuovo interesse verso la nostra città. E quindi adesso tocca veramente a noi. Sicuramente occorre cominciare dal mettere in rete, mettere in sistema tutte le offerte che il nostro territorio oggi è già in grado di offrire. E quindi ecco perché sto pensando, il mio primo pensiero è stato quello della realizzazione di un sito istituzionale del turismo, che possa dare visibilità a tutto quello che c'è oggi sul nostro territorio, in modo tale che tutti gli operatori economici possano avere la capacità di raggiungere il visitatore che vuole venire sul nostro territorio. Intanto dobbiamo sicuramente ricuscire e implementare rapporti con questi paesi che si sono accorti di noi in modo concreto, finanziando la ricostruzione o la ricostruzione di alcuni del nostro patrimonio, per consentirci anche di avere un rapporto economico e sociale permanente con questi paesi.